L'artista esistenzialista buona giornata a tutti, oggi parliamo del rischio squalifica di Ronaldo, si saprà giovedì 21, rischio squalifica per Ronaldo per il gesto poco piacevole, io lo considero deplorevole nei confronti dei tifosi dell'Atletico Madrid. Lasciamo stare quello che è accaduto dall'antata, lasciamo stare Simeone e ripeto che il gesto di Simeone è per me deplorevole, il gesto di Insignia in settimana prima di Napoli è deplorevole uguale, anche quello di Ronaldo, stesso discorso non cambia nulla, loro devono dare il buon esempio, sono personaggi pubblici, non esiste. Quindi squalifica sì, squalifica no, io credo che non accadrà nulla perché gli interessi degli organi sportivi, dell'UEFA e poi anche della Champions League stessa per non perdere un personaggio come Ronaldo sono molto molto elevati, quindi io credo che si andrà verso un'ammenda molto salata ma non accadrà nulla. L'articolo 12 del 15 del codice di giustizia sportiva è che dice che si rischia presentemente una squalifica per una giornata, nel caso appunto in cui un giocatore ha una condotta che è poco sportiva e disportiva nei confronti che vi sia del pubblico avversario o quant'altro, quindi con un gesto poco piacevole che possa essere un'istigazione alla violenza, offesa o quant'altro, quindi un gesto poco piacevole. Ribadisco io credo che succederà ben poco, se Ronaldo gli avrebbe potuto dare 10, la Gazzetto che presto io gli avrei dato 10 martedì, quel 10 diventa 9 o forse anche meno perché quel gesto da lui proprio non me l'aspettavo. L'artista esistenziale se buona giornata a tutti.